Ciao, ti sei mai trovato a parlare con una donna ma non sai come se e quando chiedere il numero? O ancora peggio, magari pensi che lo potresti chiedere ma ti cagli addosso? In questo video vediamo esattamente cosa come quando farlo con tanto di frasi precise da utilizzare. Io sono Gio Di Lorenzo e questo è Seuzione a Trazione.com La prima cosa che tu vuoi tenere in considerazione è che per andare a prendere il numero della ragazza vuoi fare delle interazioni solide. Questo significa come base minima generare attrazione con la ragazza tramite tutta una serie di tecniche che ti spiego in tantissimi video del canale, quindi se vuoi puoi andarle a guardare. fare investire la ragazza, cioè portarla in uno stato in cui investe in quella che è l'interazione e la conversazione con te e al tempo stesso qualificarla. Cioè fare tutta una serie di domande che le permettono e di investire e anche di dire potenzialmente cose che ti possono interessare, impressionare, eccetera, eccetera. Quello che tu vuoi fare in una situazione ideale è semplicemente portare l'interazione su un picco, cioè su un'alta nota emozionale da parte della ragazza e a questo punto la tratta c'è una bella atmosfera fra di voi ed è molto semplice a questo punto prendere il suo numero di telefono. Ok, ascolta Amanda, sembra interessante per ora, devo andare, scambiamoci il numero e rimaniamo in contatto via messaggio. Ok, va bene. Ma anche nel caso in cui tu non sia riuscito a creare quelli che sono gli ingredienti corretti, non importa, semplicemente anche se lei si trova di corsa, prova a prendere il numero, non hai comunque nulla da perdere. Guarda, sono di corsa. Ok, siamo entrambi di corsa. Prendi il tuo numero e continuiamo questa conversazione via messaggio. Ok. In pratica quello che fai quando dici continuiamo questa conversazione via messaggio è chiedere meno obbedienza alla ragazza piuttosto che dirle andiamoci a prendere un drink o qualcosa che richiede un investimento maggiore a parte sua in un momento in cui non è decisionalmente pronta perché l'interazione è durata molto poco e di conseguenza aspetti di fare questo nel momento in cui via messaggio avrai costruito più valore con la ragazza. Vediamo adesso cosa fare in discoteca. Vuoi considerare che durante il giorno abbiamo per esempio usato questa frase che è un qualcosa del tipo ascolta sembra interessante, per ora continuiamo questa conversazione via messaggio. E non è che ci sia una frase che è necessariamente giusta, sbagliata, quello che è, ma quello che tu vuoi considerare è che in realtà devi calibrare di caso in caso e solitamente quelle che sono interazioni di giorno sono interazioni piuttosto corte. Perché ti stai chiedendo semplicemente perché lei è da fare, sta a fare shopping, deve andare al lavoro, quello che è insomma. Semplicemente non ha tutto questo tempo, né a maggior parte dei casi, per dedicare tanto tempo a un uomo che è andato a conoscerla e non è in quel mindset tipo discoteca dove vanno per essere approcciate. Di notte invece ci troviamo in una situazione un po' diversa in quanto si piace alla ragazza, lei è tutto il tempo che le serve per flortare con te, fare escalation fisica, spostarsi te all'interno locale e quindi seguire la tua guida e quindi abbiamo delle premesse che sono diverse. Quindi di conseguenza in questo caso se tu fai le cose tecnicamente corrette durante la notte e piace alla ragazza quella che è la presa del numero dovrebbe essere solo una conseguenza logica di quello che hai fatto in precedenza. In discoteca il contatto fisico è più accettabile e di conseguenza se le cose sono andate bene puoi utilizzare quest'ultima occasione, cioè la presa del numero, per fare contatto fisico con la ragazza. Al tempo stesso tu vuoi considerare che vuoi fare contatto fisico come ti mostro fra poco solo nel caso in cui vedi che c'è una bella atmosfera fra di voi e di conseguenza ha senso farlo altrimenti cerca la soluzione che è più risk free possibile. Quindi quello che tu farai per farlo nella pratica è semplicemente questo prendi quello che è il suo numero di telefono con una frase tipo quella che stiamo per vedere e poi vuoi fare questo. Prima cosa prendi il telefono e glielo metti praticamente in mano e la seconda cosa che tu fai è fondamentalmente muoverti lateralmente e a questo punto puoi continuare quella che è la tua escalation fisica sulla schiena. Quanto? Non lo so, dipende da come è andata l'interazione. Ok Amanda, ascolta, è stata una conversazione piacevole. Ti mando un messaggio e continuiamo questa conversazione di front and drink. Ok, va bene. E quindi quello che volete fare in questo momento è sfruttate il fatto che avete fatto questa transizione per spostarvi lateralmente e mentre lei scrive il numero di telefono voi potete continuare a fare escalation fisica sulla schiena. Ora volete considerare che lei è vestita in questo momento ma in discoteca è molto probabile che lei abbia qualcosa del genere o comunque ci sta. E quindi volete arrivare, ma non troppo, non volete far sentire che siete allupati o robe di questo tipo sul fondo della schiena senza andare troppo in basso. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.